Ciao, ecco qua Pascal Adelfa, regista e amico di San Patrignano. Pascal, domani inizia la nona edizione di WeFree Days. Perché partecipare al WeFree Days? Ah, perché partecipare? Perché non partecipare? Perché i WeFree Days sono delle giornate straordinarie, bellissime, coinvolgenti, emozionanti. Quindi chi viene qui non si è mai pentito, anzi io sono nove anni che vengo a tutte le edizioni, ci sono e non posso fare a meno di smettere di esserci. Vuoi dire qualcosa in anteprima a tutti i ragazzi che domani parteciperanno a WeFree Days? Le cose da dire sarebbero tantissime perché abbiamo davvero una miriade di attività, di persone, di personaggi molti famosi, altri meno famosi, ma non per questo meno importanti. Anzi, la cosa da dire è che mi piacerebbe venite aperti e lasciate che la vostra mente sia aperta e che accolga qualsiasi degli stimoli, delle sensazioni che tutte queste straordinarie persone vogliono trasmettervi. Ok, grazie Pascal, è un piacere averti qua con noi. A voi. A voi. A voi. A voi.